Scegliamo una tipologia già completamente definita, sia come profili che come accessori. Possiamo visualizzare la tipologia nel modo tradizionale, oppure utilizzando una vista tridimensionale. Con definizione profili accediamo all'archivio grafico in formato DXF. Visualizzando la forma reale del profilo ed eventualmente cambiando il codice. FPPro calcola automaticamente tutti i nodi presenti nella struttura e permette di visualizzarlo in modo grafico. Si può verificare e cambiare la distanza tra i vari profili. Ai nodi è possibile associare accessori quali squadrette, cavallotti e guarnizioni. Visualizziamo ora i kit applicati. Possiamo applicare i kit alla struttura o applicare direttamente gli accessori ai nodi come visto prima. Possiamo visualizzare qualunque sezione, sia verticale che orizzontale, con quotature manuali o automatiche. Possiamo ingrandire qualunque zona ci interessa. Le sezioni possono essere liberamente quotate ed esportate in DXF in modo da utilizzarle con programmi CAD. Allo stesso modo possiamo gestire tipologie fuori squadro e ad arco. Legno alluminio Persiane Scorrevoli Tutte le immagini di FP Pro possono essere esportate verso programmi commerciali quali Word e Excel. Ad esempio, esportiamo l'immagine di una tipologia ed apriamo Word. Scegliamo Incolla A questo punto l'immagine è nel documento di Word ed è possibile inserire eventuale testo a corredo. Grazie a tutti. Grazie.